Carissimi genitori e professori, siete sempre così bravi a dispensare consigli ai noi giovani. E voi, pensate davvero di comportarvi sempre correttamente? Se avete dei dubbi, state tranquilli, perché se seguirete attentamente questo tutorial, scoprirete come diventare ad un tutorial fette. Se i vostri figli vi confidano un segreto, non dovete dirlo a nessuno. A nessuno, capito? Ciao, sono la firma, alla fine... Che cos'hai, Lian? Niente. Ma come niente? Ho visto che hai nascosto qualcosa. Non è niente. Ma dai, Sofia, sono tua mamma. No, no, fidati, non è nulla di importante. Mamma, hai ragione, se non è nulla di importante, me lo puoi dire. Ok, però tu mi prometti che non lo dice nessuno, altrimenti mi rovinerebbe la vita. Ovviamente. È il giornalino di Peppa Pig. Ah, Peppa Pig. Bella. Mamma, mi raccomando, sì, acqua in bocca. Ma certo. Mamma. Senti, mamma. Sorpresa. Auguri, Tedoro. Proprio la festa che sognavi, vero? Dai, sappia la candelina. Volete imporre delle regole? Allora, senti prima e rispetarla. Tu! Affanti! Che cosa state guardando? Avanti a fare la verifica! Imparate a rilassarvi nel momento giusto. State easy! Il rilassarvi nel momento giusto préstare che india la natura. Grazie a tutti. 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 Solo otto? Florian. Complimenti. Complimenti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Anche voi vi siete riconosciuti in almeno una di queste situazioni, vero? Quindi ricordate bene i nostri consigli e forse quando saremo figli e alunni modello anche voi sarete... Palutti perfetti! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.